Il tema posto dalla Will a quest'oggi in Consiglio regionale è un tema davvero importante, importante è che le istituzioni devono aver presente perché la desertificazione degli uffici bancari, degli sportelli bancari sul territorio è un vulnus che danneggia i più fragili, i risparmiatori più anziani, rende non evidente un soggetto che possa garantire il risparmio evitando truffe e allo stesso tempo incide notevolmente sull'occupazione e quindi riguarda tutta quella fascia più giovanile che accede al lavoro e che attraverso le forme o di lavoro agile o di lavoro online e poi di intelligenza artificiale, immaginiamo quando arriverà a miglior sistema questa forma, questo nuovo modello organizzativo che cosa potrà accadere? Avere degli sportelli nei propri territori significa garantire il risparmio e avere cura di quel territorio per gli investimenti, per le imprese e per lo sviluppo.